L'estate sta finendo ma c'è chi neppure si è accorto del suo arrivo. Il meteo ballerino quest'anno ha impedito infatti ai visitatori di poter godere a pieno del mare e delle sue bellezze. A soffrire maggiormente di questa situazione sono state però le aziende turistiche campane, in particolare quelle situate lungo la costa cilentana, che sopravvivono spesso grazie al turismo di prossimità, quello cioè che si concentra nei soli weekend o che è legato alle gite fuori porta ed è dunque più soggetto a mutamenti improvvisi. Tante le disdette dell'ultimo minuto quest'estate, secondo le rilevazioni delle associazioni di categoria, l'afflusso turistico quest'anno si sarebbe ridotto del 35% rispetto a quello della passata stagione estiva. Sia questo si aggiunge che alcuni operatori hanno segnalato anche danni per il maltempo che ha creato allagamenti e guassi agli impianti elettrici per più di 100.000 euro con costi in termini di personale, impse e tributi sostenuti dalle imprese senza un vero ritorno, il quadro è davvero allarmante. Non si registrava da anni un agosto con piogge temporali, compreso il ferragosto, ogni 48 ore hanno detto i vertici della Confesercenti regionale. Per le migliaia di imprese del turismo e del commercio questa situazione che è iniziata dal mese di giugno ha rappresentato un vero e proprio flaggello. Ecco dunque che il presidente regionale Vincenzo Schiavo e il suo vice Raffaele Esposito hanno formulato una richiesta di stato di crisi al presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca per venire incontro a quelle che sono le lamentele e le preoccupazioni di tanti imprenditori che spesso tirano un sospiro di sollievo proprio grazie all'estate e che quest'anno sono invece rimasti penalizzati. L'obiettivo è assicurare agli operatori una riduzione dei costi demaniali o dei tributi comunali versati o ancora un più facile accesso al credito magari a tassi agevolati con garanzia regionale. Confidiamo hanno detto ancora della Confesercenti in una pronta e adeguata risposta delle istituzioni e in un'ampia condivisione del provvedimento mai come in questo momento il settore turistico quello balneare e quello del commercio hanno bisogno di una grande iniezione di fiducia e vicinanza a tutti i livelli.